Siamo con Giorgio Delfino per settimana sport, allenatore del Borgo Incrociati. Giorgio, dalla tua verneranda età, fammi un po' un commendo sulla partita. È stata una bella partita, molto molto giocata, con troppi falli, però abbiamo vinto ed era il nostro obiettivo per oggi, per il campionato. Ma del modo direi una vittoria che vi rilancia nelle posizioni alte della classifica. Sono sei partite che vinciamo, siamo già lanciati abbastanza. Sì, Giorgio, scusa, però dico, era ora, io all'inizio del campionato prevedevo il Borgo tra le squadre, diciamo, in lotta per le prime posizioni fin dall'inizio. Avete subito delle pesanti sconfitte, però devo dire adesso vi state riprendendo bene. Vi stanno riprendendo bene perché i ragazzi fisicamente stanno bene, corrono, hanno avuto una buona preparazione. Qua bisogna anche ringraziare la muedra che l'ha fatta, la preparazione. Tengono 90 minuti, sono 90, lottano fino all'ultimo. Mi fa piacere, guarda, sono contento perché lo scorso anno siamo retrucciati immeritatamente. Va bene, Giorgio, dai, ti ringrazio, dimmi, di pure. Ringrazio te, vieni anche domenica che ci porti bene. Ma guarda, quando ci sei tu, ma così bene. No, guarda, Giorgio, c'è chi mi vede dice che porto male, tu mi dici che porto bene. No, no, per me a noi porti bene. Vabbè, ad ogni modo ti dico, Giorgio, domenica andrò a vedere il Genua con la Lazio, visto che sono genuano. No, ma chissà, dai, ciao Giorgio, ciao Giorgio, grazie.